DaSie è un'azienda di famiglia che nasce quasi mezzo secolo fa, nel 2025 appunto compriamo 50 anni. È un'azienda che si fonda appunto su valori, su tradizione, su innovazione, su rispetto delle persone, non solo che lavorano all'interno delle nostre gelaterie, ma anche all'esterno collaboratori, i fornitori e soprattutto voi i clienti. Anno dopo anno abbiamo sempre cercato di migliorare appunto il nostro feeling, la nostra filosofia appunto con voi, presentandovi non solo gusti nuovi, ma andando anche alla ricerca delle migliori materie prime al mondo. Appunto abbiamo voluto valorizzare il nostro nome in famiglia da SIE da qualche anno, dando un punto di riferimento nella città di Treviso e non solo, nella marca trevigiana, a Montebelluna e avendo fatto anche due aperture nella città natale di mia moglie a Gran Canaria lo scorso anno. Allora è una conferma che per il terzo anno consecutivo il Gambero Rosso ci ha dato i tre coni, che è il massimo premio come nella guida Michelin. Già nel 2018 avevamo ricevuto il premio come miglior gelato e cioccolato d'Italia, che ci aveva riempito d'orgoglio e questi successivi tre coni ci sono arrivati, è un ennesimo carico di adrenalina che ci facciamo, non solo nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutto il mio gruppo, perché è improntato a dare sempre meglio, sapendo che l'aspettativa del cliente è sempre più alta e quindi è un onore, un orgoglio, ma allo stesso tempo una motivazione a fare sempre meglio. Grazie.